Buongiorno, sono Sara, vi presento la promozione Ferrero. Subito per te uno sconto immediato di 50 centesimi per l'acquisto di tre prodotti Kinder Ferrero che puoi trovare vicino a me. Per ottenere lo sconto avvicina la tua mano alla telecamera e ritira il tagliando stampato. Presenta la cassa al tagliando e i tre prodotti che hai scelto. Buona giornata da Ferrero! Buongiorno, sono Sara, vi presento la promozione Ferrero. Subito per te uno sconto immediato di 50 centesimi per l'acquisto di tre prodotti Kinder Ferrero che puoi trovare vicino a me. Per ottenere lo sconto avvicina la tua mano alla telecamera e ritira il tagliando stampato. Presenta la cassa al tagliando e i tre prodotti che hai scelto. Buona giornata da Ferrero!